Il tema che trattiamo oggi è un tema che volevo trattare da tantissimo tempo perché se ne sentono di ogni su questo tema ma devo trovare la persona giusta chiaramente per farlo e il tema come vedete dal titolo chiaramente della live è un tema di indicizzazione e posizionamento legato a LinkedIn ma anche con tutti i suoi riflessi sui motori di ricerca poi essenzialmente su Google e quindi chi altro avrebbe potuto invitare per una diretta come questa se non il consulente se è un numero uno su Google da 2005 non temo update questo è quello che dichiarare il suo profilo LinkedIn e quindi ecco qua a fianco a me Laura Venturini ciao Laura Ciao Alessandro ciao a tutti ciao a tutte Allora appunto tu ti definisci come la consulente seo numero uno sei una espertissima consulente seo e hai una società quindi che appunto un'agenzia seo Io sono Laura Venturini mi occupo di seo dal 2003 quindi da moltissimi anni però sono il primo risultato su Google dal 2015 per essere più precisi nel senso che se voi cercate un consulente seo su Google una consulenza seo trovate il mio sito personale Nel 2014 per una questione ovviamente di esigenze perché avevo molti clienti di libera professione ho deciso di avventurarmi nell'apertura di un'agenzia Ho aperto questa agenzia seo che quindi ha in primis come peculiarità quella di essere assolutamente verticale cioè io ci tengo sempre a dire che vendiamo solo ciò che sappiamo fare quindi appunto anche l'agenzia seo si trova con keyword legate al settore quindi se ci cercate come agenzia seo oppure con una serie di keywords che hanno a che fare con le ricerche su Google insomma siamo presenti E ci occupiamo di quindi tutto ciò che ruota intorno alla seo che quindi sono il conversion rate dei siti web e l'analisi dei dati La cosa, vabbè, diciamo due cose curiose sulla società insomma molto rapidamente che stiamo in smart working da sempre dal 2014 e diciamo che questo è una cosa che ci differenzia molto nel mercato ma anche il fatto che al momento tutte le professioniste che si occupano di seo sono tutte donne Quindi è un'agenzia al femminile e anche questa insomma è una cosa di cui vado super orgogliosa Poi chiaramente io mi occupo di digitale da vent'anni, sono una persona iper curiosa e quindi mi occupo anche di altre cose e sono l'amministratrice di una start-up che è un SAS per vetrenari E ho diciamo le mani in pasta come si suol dire in svariati progetti che hanno a che fare con l'inclusione, il mondo del lavoro eccetera 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 Insomma ma questo magari ne parliamo un'altra volta insomma chi fosse interessato mi può contattare su LinkedIn e volentieri faccio due chiacchiere o prendo un caffè virtuale e volentieri con tutti È una vera networking, networker Laura quindi veramente si possono fare due chiacchiere, sono molto interessanti anche gli altri cappelli secondo me utili da menzionare perché ci dai una visione appunto che non è solo quello di una brava consulente seo con un grande team attorno ma di un'imprenditrice prima di tutto Tra l'altro grande comunanza per business e il fatto di essere totalmente noi diciamo remote working vogliamo essere un po' più così però comunque non abbiamo una sede noi però non siamo tutte donne come si può vedere però abbiamo parecchia diversity però abbiamo anche questo punto in comune Sì sì ma il tema è che la SEO fondamentalmente ma ne parleremo anche più approfonditamente dopo ha senso in generale quando porta business io dico sempre la vedo veramente da un'altra come dici tu da un'altra prospettiva perché facendo un'imprenditrice dico sempre alla fine è un canale di investimento Come dire faccio le campagne LinkedIn faccio le campagne PPC su Google investo in TikTok quello che è investo in SEO ha senso nel momento in cui ho un ritorno di investimento sul progetto e quindi anche la SEO io la vivo in questo modo e quindi sì e per quanto riguarda invece il metodo di lavoro un'ultima cosa insomma che ci tengo a dire è che effettivamente oggi credo sia veramente una scelta come dico sempre ecologica e intelligente quella per alcune professioni di insomma gestire il team in remoto perché poi il vero segreto è riuscire a motivare le persone quello è il segreto per tenere diciamo le persone con noi a prescindere che sia in remoto o in presenza Chiudo la parentesi perché lo so che io e te Alessandro potremmo aprire infinite parentesi No e poi però non ci segue più nessuno e partiamo per la nostra tangente invece le persone che ci seguono ci sono sono tante sta arrivando un sacco di saluti quindi ricambiamo tutti grazie per l'attenzione pare che il tema sia molto apprezzato vediamo se continueranno ad apprezzarlo perché in realtà oggi ci faremo un po' di nemici probabilmente anche qualche amico speriamo perché vogliamo andare a sfatare un po' di falsi miti leggende metropolitane dare delle informazioni un po' più precise visto che il tema è un tema come appunto dice qualcuno molto interessante molto importante la live si chiama proprio linkedin e se ho due mondi che si incontrano ma punto di domanda perché si dicono delle cose che non sempre sono vere e altre magari non si conoscono quando si parla di dei rapporti diciamo tra linkedin e google per le necessitazioni ma anche quando si parla del posizionamento stesso all'interno di linkedin per esempio di un profilo di una pagina aziendale quindi mettiamo insieme le nostre esperienze tu super esperta di seo imprenditrice io focalizzato su linkedin abbiamo i nostri punti ma ricordo che con le domande siamo pronti a rispondere a quasi ogni domanda se proprio non la sappiamo facciamo cadere la connessione facciamo una bella figura che mi sembra un'eccellente idea peraltro speriamo non accada me la sono tirata allora senti io ho un primo punto una prima domanda che ti voglio fare perché questa in ogni mio corso salta fuori ogni volta che si chiacchiera contenuti argomenti duplicati quindi molti hanno un blog blog personale blog aziendale però linkedin con pulse ci offre come dire è molto goloso l'idea di usare anche pulse perché ha una serie di vantaggi che non stiamo qua a elencare adesso e quindi qualcuno pensa di riportare magari i contenuti del blog però qualcuno dice no assolutamente contenuti duplicati la morte questo è il punto io butto la bomba lascio a te in questo caso girarci intorno allora dunque sulla questione dei contenuti duplicati si fa una gran confusione nel senso che comunque c'è un tema lato google google non ama il contenuto duplicato ma cosa significa cioè anche qui la cosa interessante ed è un piccolo spoiler che vorrei insomma fare prima di di proseguire che la differenza tra google e linkedin è che google ha la documentazione esposta per i webmaster quindi anche per tutto ciò che riguarda il posizionamento e la seo direttamente sul sulla sua repository ufficiale quindi non c'è non ci sono grandi diciamo filosofie da fare o grandi cose google ci dice che cosa si aspetta a differenza invece di linkedin che chiaramente in questi giorni ho anche approfondito in attesa di questa live e effettivamente è mancante da questo punto di vista la documentazione cioè c'è molta documentazione sull'api su come integrare ma non c'è documentazione esatta diciamo precisa su come effettivamente avviene il posizionamento o come ci si interfaccia all'interno di altre cose quindi la cosa interessante secondo me da dire è che se noi all'interno del nostro contenuto del blog diciamo a google che quello è il diciamo contenuto canonico e quindi inseriamo all'interno del leader quindi della testata del nostro sito il riferimento al fatto che quello è l'url canonico cioè quello che noi riconosciamo noi titolari del sito riconosciamo come l'originale non è un problema in realtà se il contenuto viene duplicato da altri come a volte succede sul web e quindi si bot duplicano il nostro contenuto eccetera eccetera o lo duplichiamo su linkedin posto che non è la best practice ma qualora dovesse succedere google non ci penalizza e non ci mette nella centomilionesima pagina di google insomma non ci nasconde non ci sotterra quindi il tema secondo me è un altro ed è più un tema legato più che al tecnicismo in sé al buon senso e alla logica e dire se io voglio investire su linkedin e quindi su scrivere un contenuto su pulse ha molto più senso che io scrivo un contenuto originale questo perché tendenzialmente si pulse può essere indicizzato su google e magari approfondiamo il come il perché ma è chiaro che se io ho una presenza digitale su più canali ha senso chiaramente costruire il mio personal branding o il branding della mia azienda chiaramente con contenuti sempre originali anche perché il senso è perché dovrei seguirti se metti la stessa cosa a tutte le parti cioè ti seguo in un canale buonanotte è anche una questione di mera logica insomma sì 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 infatti secondo me quella quella domanda a quel punto ci sono le due risposte da dare quella tecnica ed è chiarissima quella strategica quindi possiamo dire che se occasionalmente capita di duplicare un contenuto perché magari ce n'è necessità o per errore o non lo so per quale altro motivo non è la fine del mondo con quell'attenzione che hai fatto però il vero punto che dovremmo avere su linkedin una strategia di contenuto che è diversa probabilmente da quella del blog sia per il posizionamento il tono di voce i topic sia per come funziona l'indicizzazione dell'uno e dell'altro non tanto perché c'è poi una penalizzazione no perché dovremmo pensare a cosa ci servono realmente quegli articoli tra l'altro noi un po da boomer boomer proprio di linkedin cioè nel senso che lo usiamo da tanto li stiamo chiamando pulse 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 non si è mai realmente capito la pronuncia in realtà per chi magari non li ha mai sentiti con questo nome sono gli articoli lunghi quindi long form di linkedin è semplicemente quello lo dico per chi magari non lo usa da più di 6-7 anni il vecchio nome diciamo così sono gli articoli cosiddetti articoli di linkedin esatto allora intanto se volete scatenarvi nei commenti anche su per entrare nel dettaglio su questo tema degli articoli lunghi e indicizzazione e contenuti duplicati fatelo pure come dicevi però c'è un tema da approfondire quindi ok no penalizzazione con quell'attenzione ma di per sé l'articolo lungo a google piace o no lo indicizza o no allora c'è una cosa fondamentale da dire allora se la domanda è se google indicizza gli articoli di linkedin la risposta è assolutamente sì tant'è che se provate a fare una ricerca e cercate un determinato tema e però diciamo il linkedin accanto tra i risultati di ricerca sicuramente ci sarà ci saranno dei pulse perché vi dico aggiungendo la keyword linkedin perché il tema è questo come fa google a definire quale contenuto posizionare cioè google si basa su due principi fondamentali che sono pertinenza e rilevanza per chi fa la ricerca su google ok quindi nel momento in cui io vado a fare una ricerca google mi restituisce quelli che sono per me i contenuti più pertinenti e rilevanti ma è chiaro che dovendo dare priorità a un contenuto rispetto ad un altro google andrà a scegliere a privilegiare i contenuti che rispettano i suoi tre parametri diciamo i suoi tre pilastri fondamentali che sono la tecnologia il contenuto e l'autorevolezza ora voi mi direte sì ma la tecnologia di linkedin super top l'autorevolezza e la madonna chissà quanti link ci sono di persone che linkano a linkedin tutto molto corretto ma il tema è che linkedin non è stato costruito per ovviamente essere un sito che si posiziona su google cioè linkedin vive come come ecosistema a se stante quindi tendenzialmente sì si possono indicizzare sul fatto che si posizionino in posizioni di diciamo di interesse quindi valore diciamo nelle prime per capirci nei primi dieci risultati di google è molto difficile cioè a meno che non si parli di keyword di nicchia che parlano però dell'ecosistema linkedin e allora in quel caso è molto facile trovare tra i primi risultati un articolo di linkedin detto questo c'è da dire che le dinamiche diciamo della quantità di contenuto anche lì io ne parlo sempre anche quando faccio lezione le docenze dico sempre questo è uno dei casi in cui le dimensioni non contano cioè il perché il tema è non è se ce l'ho più lungo o ce l'ho più corto google mi indicizza no il tema è quanto il mio contenuto effettivamente soddisfa il bisogno di chi effettua la ricerca quindi io posso rispondere a una cosa in tre righe perché il quesito effettivamente richiede tre righe oppure posso approfondire per capirci se chiedo a google qual è la storia di un personaggio fuori dalla scena so raccontami la storia di frida calo voglio leggere la storia di frida calo oppure voglio leggere che ne so i riti di accompiamento dei gamberetti eccetera eccetera probabilmente mi serviranno tantissime parole quindi un contenuto più ampio che mi descrive l'ambiente marino come funziona i gamberetti il sistema neurologico del gamberetto eccetera eccetera per arrivare poi a spiegarmi che i gamberetti per esempio non si innamorano diversamente se io ho una domanda iper specifica e sto cercando una cosa tipo ad esempio la risposta a un quesito molto stretto l'esempio che faccio sempre che è molto divisivo lo so ma faccio la carbonara meglio la guanciale o la pancetta quindi tendenzialmente mi aspetto una risposta che ovviamente il guanciale però tendenzialmente mi aspetto una risposta che si può esaurire in una riga quindi il tema qual è il tema è che deve aver senso per chi mi legge ma anche perché una delle cose di cui si parla molto a livello di contenuto in ottica seo che secondo me può avere anche molto senso in ottica linkedin è la famosa tecnica giornalistica della piramide rovesciata che cosa significa significa che io metto all'inizio rovescio la piramide cioè all'inizio do fondamentalmente la risposta già al quesito cioè se una persona mi stanno cercando per un dato argomento io dirado subito la risposta in modo che poi chi vuole approfondisce e resta sul contenuto diversamente non metterò in fondo la risposta perché così magari leggono tutto ma perché immaginate l'esperienza personale che avete o cercate una cosa su google tendenzialmente volete subito la risposta o se aprite un contenuto su linkedin se girano intorno per centinaia di caratteri e fanno giri infiniti di parole e tendenzialmente vi scocciate e chiudete andate altrove il tema è quello è devo essere utile possibilmente accattivante e ricordarci che purtroppo viviamo in un'epoca nel quale le persone leggono pochissimo quindi veramente il nostro contenuto deve essere efficace funziona così google funziona penso immagino questo Alessandro magari passo la palla a te tendenzialmente anche su linkedin il concetto immagino sia lo stesso cioè l'altro anche perché l'altra cosa interessante è che io su google posso monitorare quanto le persone restano sul mio contenuto no perché io posso vedere qual è la durata della lettura no quanto le persone restano nella mia pagina sull'articolo di linkedin credo proprio di no ai noi no allora provo ad aggiungere qualcosa rimettendo anche magari alcuni punti li risottolineo perché sono molto importanti quindi articoli lunghi vengono indicizzati anche da google ma precisiamo i post no i post attualmente i post linkedin non sono indicizzati quindi al di là della lunghezza è chiaro che di solito noi diciamo facciamo un articolo lungo se abbiamo qualcosa di più strutturato diciamo così che superi i 3000 caratteri concessi per esempio dal post ma in realtà potrebbe anche essere come dicevi un contenuto che si esaurisce in poco perché il punto non ha bisogno di troppe trattazioni ma potremmo scegliere l'articolo se abbiamo una strategia di indicizzazione perché la cosa interessante l'articolo lungo è la coda lunga di visualizzazioni che si possono avere grazie anche l'indicizzazione come dicevi quindi non sarà nei primi risultati a meno che non sia anche per una keyword che contiene la parola linkedin ma comunque qualcosa può arrivare poi dipende chiaramente da quanto è competitiva la posizione che stiamo cercando di scalare no a proposito di questo però c'è una cosa una novità interessante di cui non possiamo ancora condividere risultati perché è molto nuova ma vedremo nel futuro ora linkedin permette quando si pubblica un articolo lungo di inserire anche un titolo e una descrizione proprio con finalità seo per motori di ricerca esterni quindi oltre al titolo allora per linkedin c'è titolo immagine chiave e testo quel titolo appunto può essere diverso per i motori di ricerca in più si può aggiungere una descrizione proprio da scrivere con la logica come se fossimo sul nostro wordpress sul nostro blog fondamentalmente non sappiamo ancora cosa accadrà grazie a questo non ci aspettiamo rivoluzioni ma può essere un aiuto in più ma in realtà io trovo che sia interessante sai perché perché allora intanto una cosa che non abbiamo detto ma è importante ricordare che linkedin fa parte dell'ecosistema microsoft quindi ecosistema microsoft uguale bing più che google c'è da dire che bing sta cercando soprattutto adesso con l'intelligenza artificiale di recuperare quote di mercato il tema è che effettivamente andrebbero fatti dei test secondo me e avrebbe molto senso per capire quanto invece questi articoli si indicizzano su bing perché però parliamo quasi sempre di google perché immaginate che nel mondo occidentale la maggior parte delle ricerche con maggior parte intendiamo molto più del 90 per cento delle ricerche cioè quasi non vi dico il totale ma insomma un buon 95 per cento delle ricerche avviene su google quindi beh è chiaro quando si ragiona di posizionamento si fa no perché effettivamente il tema è che i motori di ricerca sono moltissimi però google tendenzialmente per ora ne fa ancora da padrone vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e vedremo se effettivamente cambierà qualcosa con la possibilità di diciamo perfezionare titoli e descrizioni vedremo esatto invece qui poi ci avviciniamo al prossimo macro argomento parliamo un pochettino di un'incitazione all'interno di linkedin quindi lasciiamo un attimo google da parte ma qui la tua esperienza conoscendo bene google per analizzare come lavora linkedin è molto preziosa se si fa una ricerca per post per esempio come viene indicizzato un post o un articolo all'interno del motore di ricerca di linkedin che ha il suo filtro per post anche oltre che per persone per aziende qui è molto diverso e lascerò a te poi diciamo usare le parole più aspre ma fondamentalmente il criterio è quello della presenza o meno della parola esattamente come è scritta non ci sono particolari contributi semantici anzi non ci sono proprio poi in realtà nell'ordine dei risultati anche per linkedin ci sono alcuni criteri che variano in particolare la rilevanza sociale quindi se io per esempio faccio la ricerca di post contengono la parola chat gpt giusto per così una parola che non usa nessuno in questi giorni è chiaro che se c'è un contributo di laura venturini che c'è io sono collegato con laura venturini e di recente ho interagito con lei è più probabile che lo mostri prima magari del contenuto di una persona con cui non sono nemmeno collegato poi chiaramente c'entra anche l'autorevolezza quindi se il suo contenuto ha avuto molte interazioni sarà prima ma se c'è quello di qualcun altro non collegato con me che è diventato virale magari me lo mostrerà comunque subito dopo magari anche prima quindi c'è un tema di autorevolezza basata sulle interazioni che ottiene e poi di rilevanza sociale però per decidere quali post o articoli mostrare è proprio la presenza nuda e cruda esattamente di un termine allora spoileriamo dai raccontiamo questo dietro le quinte quando con Alessandro ne abbiamo parlato gli ho detto guarda considera che il motore di ricerca di LinkedIn funziona come Google ai suoi albori cioè parliamo di fine anni 90 il tema è che chiaramente LinkedIn non è un motore di ricerca semantico quindi ha una comprensione veramente molto limitata delle query che gli si fanno e il tema è che ragiona effettivamente voi immaginate come Google agli albori ciò significa che più infarcite il contenuto di parole chiave più è probabile che sarete in alto nelle ricerche del vostro ovviamente all'interno della vostra cerchia perché qual è il tema il famoso quella che nella SEO ormai è una roba super super cioè veramente superata dico non si parla più che nel keyword stuffing cioè ovvero metto SEO dappertutto per comparire col termine SEO è veramente una roba che non si usa più ma perché? cioè diciamo il perché posto che è una roba che qualsiasi SEO ha la pelle accapponata ogni volta che deve fare una roba su LinkedIn il tema è che LinkedIn perché ragiona in questo modo cioè perché non ha evoluto questa funzione secondo me perché ovviamente essendo un social network ragiona con un'altra logica cioè la logica è io devo mettere in relazione le persone quindi per me ha più valore l'interazione, il commento, l'engagement quanto questa persona ha ampia il suo network rispetto alla ricerca pura quindi il tema è l'algoritmo di LinkedIn è probabilmente più acerbo perché non ha interesse nello sviluppare questa cosa ora la butto lì chissà se mai qualcuno di LinkedIn sentirà questa cosa ma sarebbe fichissimo se riuscissero ad integrare la modalità di ricerca che stanno testando con Bing e l'intelligenza artificiale su LinkedIn sarebbe una roba per cui uno non uscirebbe più da LinkedIn probabilmente però tendenzialmente il tema è no effettivamente il tema è io restringo alle mie cerchie, all'interno delle mie cerchie chi utilizza meglio le parole chiave poi ovviamente c'è un altro tema posto che più le uso più comparirò è importante però dire che ricordiamoci che dall'altra parte c'è un altro essere umano che poi deve leggere il contenuto brava, bravissima quindi se io lo infarcisco di parole chiave mi posiziono però poi Gesù, cioè il non ti seguo più è un attimo esatto infatti io lo dico sempre anche durante le mie lezioni questo vale ancora di più per i profili perché tenete conto che quello che abbiamo appena detto lo abbiamo approcciato dal tema dei post ma vale anche per i profili e per le pagine cioè che il motore di ricerca di LinkedIn non è semantico è solo la presenza delle parole chiave magari anche la loro ripetizione noi dobbiamo sempre pensare a due interlocutori quando scriviamo in generale sul web ma per ora focalizziamoci su LinkedIn l'aspetto tecnologico, la tecnologia, l'algoritmo che ci deve il motore di ricerca che ci deve trovare e indicizzare e poi posizionare e gli esseri umani ma alla fine non possiamo allora sarebbe stupido dire qual è più importante perché sono veramente 50 e 50 secondo me nel senso che se facciamo una scrittura fantastica per l'essere umano ma poi non veniamo trovati l'abbiamo fatta per nessuno se veniamo trovati e la scrittura fa ridere perché non è comprensibile a un essere umano o è veramente così poco accurata per come un essere umano legge tanto vale quindi veramente dobbiamo tenere insieme i due aspetti solo che per i post come dici giustamente ci sta che il criterio sia un po' più legato alle relazioni cioè quindi prima il post di Laura perché ha una relazione con Laura quando si parla invece di indirizzazione di profili o ancor peggio delle pagine aziendali allora è veramente un disastro perché anche nei profili ci sta che io trovi prima il profilo di una persona che ha la parola chiave esattamente come l'ho scritta e con cui ho più cose in comune rilevanza sociale ma quando si tratta di un'azienda questo è inaccettabile però è così comunque anche per i profili aziendali ed è una roba veramente incredibile nel senso che chiaramente se fate una ricerca cercando un'azienda ovviamente non per il nome dell'azienda ma per il settore quindi la tipologia di servizio che offre verrà cioè vi verrà presentata non prima quella che ha più interazione più follower o più semplicemente più autorevole sul mercato ma quella che ha ottimizzato in ottica tra tante virgolette SEO e la propria pagina cioè SEO nell'ottica di LinkedIn quindi come ci siamo detti utilizzando in modo diciamo anche più massivo le parole chiave ora ci sono modi per farlo in modo molto intelligente chiaramente equilibrando come diceva giustamente prima Alessandro il fattore umano col fattore tecnico ma considerate che purtroppo quando vedete una cosa probabilmente non è che è l'azienda migliore non necessariamente o quella più autorevole sul mercato ma è quella che ha ottimizzato utilizzando più parole chiave all'interno della propria descrizione perché non conta solo URL non conta solo le parole chiave ma conta anche all'interno della descrizione quante volte io inserisco la parola chiave quindi all'interno dei vari campi che mi offre LinkedIn piccola così breviario per chi vuole ottimizzare l'incitazione su LinkedIn del proprio profilo o pagina per il profilo le parole contano nel sommario headline nell'about informazioni nella descrizione delle esperienze lavorative nelle competenze nella pagina aziendale conta invece nel nome nella descrizione nei settori di competenza non conta follia ma tant'è quello che c'è scritto nello slogan quello che conta più di tutto in assoluto ma proprio pesa per più dell'80% è proprio il nome della pagina e di lì il problema quindi i problemi sono due uno dove LinkedIn va a cercare questi testi non per esempio nei post pubblicati che avrebbe anche un grande senso pagine che parlano di e poi il fatto che non è semantica io se volete ridere o piangere dipende da diciamo da come puoi interpretare la cosa vi invito su LinkedIn a fare una ricerca per persone come avvocato e come avvocata tra l'altro parliamo di genere visto che è un tema caro a Laura e a Quindo e scoprite appunto quanto è assurda veramente oggi il motore di ricerca ed è come se LinkedIn oggi andasse a due velocità cioè da una parte sta implementando delle funzioni legate all'intelligenza artificiale con ChatGPT come diciamo partner tecnico quindi scrittura del sommario scrittura delle offerte di lavoro gli articoli collaborativi che sono una cosa molto intelligente poi se volete ne parliamo un attimo dall'altra invece ha una ricerca interna di profili post pagine aziendali eventi gruppi perché vale su tutto che è indietro di 20 anni fondamentalmente si è molto limitato non abbiamo noi il potere di cambiarla vi raccontiamo com'è senti tu hai citato l'URL invece quindi indicizzazione invece di profili personali pagine aziendali di LinkedIn su Google come siamo messi ma questo è molto interessante ad esempio io diciamo suggerisco sempre di lavorare bene sulla propria pagina personale perché quando veniamo cercati su Google e questo è un tema molto interessante molto legato al personal branding una delle cose che viene fuori a meno che appunto uno non è un personaggio chiaramente pubblico molto non so come dire a meno che non sia un personaggio pubblico e quindi con il nostro nome e cognome esce il nostro sito web le varie testate giornalistiche la tv eccetera eccetera se non siamo a quei livelli ma siamo dei professionisti degli imprenditori ha molto senso ottimizzarlo perché quando le persone cercano il nostro nome e cognome nella prima pagina di Google quasi sicuramente esce la nostra pagina LinkedIn soprattutto poi se il nostro nome e cognome come nel mio caso che è iper diciamo comune viene associata la professione o il settore quindi nel mio caso cercano Laura Venturini SEO esce spessissimo la mia pagina di LinkedIn è anche molto ben posizionata in genere dopo il mio sito web questo è interessante perché ci permette di fare due riflessioni in primis sul fatto che curare il personal branding è una cosa abbastanza 360 gradi no? perché una volta dici ok curo il mio personal branding sul canale X no tendenzialmente io se voglio curare il mio personal branding devo fare un po' a 360 gradi ma e poi secondo me apre anche una riflessione sul fatto che quando uno vuole o una persona vuole comparire con determinate diciamo competenze all'interno del motore di ricerca quindi parliamo di Google è interessante lavorare su LinkedIn perché in qualche modo acquisiamo un link che gestiamo completamente per farvi capire anche qual è la logica che sottende quello che sto pensando e che magari qualcuno di voi sa che cos'è qualcuno no c'è molto il tema del diritto all'oblio che è un tipo di attività per esempio che in Quindo facciamo e non siamo in molti a farlo in Italia è legato al tema di rimuovere i contenuti che le persone non vogliono far comparire il diritto all'oblio ovviamente si lega solo agli esseri umani una legge europea che fa sì che passato un certo periodo di tempo anche da fatti di cronaca importanti anche reati sia possibile rimuovere il contenuto da Google e quindi non associarlo più alla persona chiaramente quando uno parliamo ovviamente di casi limiti però vuole fare in modo che la propria pagina la propria diciamo persona venga associata solo a cose positive nel momento in cui ad esempio lavora sul suo personal branding LinkedIn è un strumento potentissimo stessa cosa non vale per le aziende perché le aziende non hanno il diritto all'oblio però le aziende sicuramente possono lavorare sulla propria pagina aziendale in un'ottica di posizionamento del brand è anche vero che le pagine aziendali su LinkedIn sono meno frequenti rispetto alle pagine dei profili questo perché tendenzialmente le aziende in genere hanno più contenuto o soprattutto ovviamente parliamo di aziende di PMI insomma di dimensioni abbastanza grandi non vi parlo di micro imprese ma se parliamo di aziende un po' più grandi generalmente ci sono più contenuti legati alle aziende ai prodotti eccetera eccetera però non è assolutamente una cosa da sottovalutare cioè io consiglio sempre di curare entrambe in un'ottica di se le persone lo trovano su Google vedranno delle informazioni diciamo limitate non tutte perché non sono collegate con noi però diciamo che può avere molto senso quanto conta personalizzare con una certa strategia ed eventualmente quale è l'URL della pagina o del profilo per ottenere quello che hai appena detto beh tantissimo c'è tantissimo perché fondamentalmente considerate che soprattutto nel caso in cui il vostro nome sia appunto Laura Venturini Mario Rossi o comunque abbiate qualcun altro che si chiama come voi ha molto senso non solo avere il vostro nome e cognome quindi essere i primi ad accapararsi la URL perfetta ma può avere anche senso invece aggiungere la vostra professione quindi avvocato come si diceva prima avvocata oppure il settore in cui operate questo può avere molto molto senso lato Google e per le aziende perché considerate che vai vai per le aziende altrettanto cioè vale sempre il senso dipende chiaro che se sei una mega non vale per le multinazionali e per le corporate lo 0,1% delle corporate è giga ma se sei una piccola azienda può avere molto senso detto questo il tema è che per Google cioè Google considerate che quando il robot di Google entra all'interno dei vari contenuti per capire diciamo come funziona che cosa vede cioè la URL è una delle primissime cose che vede cioè l'indirizzo e quindi nel momento in cui noi diamo un'informazione già lì Google è in grado poi di capire se è coerente con il resto cioè se è contestualizzata al resto del contenuto ecco perché è sempre molto importante ragionare sulle URL oltre al fatto che Google ha uno standard di URL che gli piacciono il tema è proprio io riesco essendo semantico a capire di che cosa stiamo parlando poi eventualmente in quella pagina esatto una piccola chicca che magari non tutti sanno se cambiate l'URL che per il profilo personale si può cambiare quante volte volete ma non ha senso però diciamo tecnicamente se fate un errore potete ricambiarlo subito per la pagina aziendale no perché una volta cambiato per 30 giorni non lo potete toccare comunque se lo doveste aggiornare magari alla luce di quello che diciamo oggi considerate che quello precedente verrà comunque reindirizzato correttamente fin tanto che qualcun altro non dovesse però reclamarlo quindi se voi avevate per esempio pagina aziendale si chiamava solo non lo so nome dell'azienda e lo fate diventare nome dell'azienda trattino nome del servizio per esempio del prodotto quello precedente solo nome azienda verrà reindirizzato ma se avete un'azienda omonima che a un certo punto reclama quell'url in realtà se voi avete linkato la vostra pagina da qualche parte un documento sul sito oltrove porterà a un certo punto magari a un'altra pagina aziendale però se nessuno lo reclamerà mai resta vostro per sempre tra virgolette per sempre non è niente ma vabbè Martina mette un punto interessante quindi ci sposta un po' l'attenzione sul tema delle immagini è vero anche le immagini che noi pubblichiamo per esempio l'immagine del profilo banalmente viene indicizzata nelle immagini di Google per il nostro nome e cognome assolutamente sì Martina è vero ed è anche questo interessante perché l'idea è Google attinge alle nostre immagini da n fonti e l'idea di avere un'immagine ovviamente chiaramente professionale eccetera eccetera può essere molto interessante nel momento in cui appunto le persone cercano il professionista direttamente su Google quindi sì anche quello ha molto senso allora io ho un'ultima domanda e qui è una di quelle appunto metti da sfatare facciamoci un po' di nemici diciamo te la poni in questi termini ma se io per esempio nel mio profilo in un post che faccio su LinkedIn in un articolo lungo mi linko il mio blog i miei contenuti esterni oppure se il mio contenuto su LinkedIn diventa virale e dentro c'era linkato il mio articolo il mio sito questo è vero che mi migliora anche nel posizionamento su Google questa è una domanda bellissima che viene posta spesso quando si parla di social network allora io se me lo permetti facciamo una cosa un po' nerd vi condivido il mio schermo se me lo permetti e vi faccio vedere il perché è una roba senza senso vediamo se trovo un mio articolo al volo allora questo mio vecchissimo articolo che parla di SEO e mercati internazionali quindi ed è questo come lo potete vedere anche voi anche perché vi faccio vedere una roba che potete replicare serenamente poi facciamo una cosa un po' e apriamo la sorgente di pagina di non vi spaventate dura 30 secondi questa cosa è giusto per farvi capire non switchiamo a contenuto super nerd però se voi andate qui e cercate all'interno della sorgente della pagina un link io ad esempio avevo linkato Google Trend vedete che questo qui è Google Trend quindi la parola linkata subito prima c'è il link che è contenuto all'interno appunto di questa stringa cosa succede? il link è questo qui a Google Trend il target cioè l'attributo che viene scusate l'attributo che viene dato a questo link è il cosiddetto no follow in questo caso no per no cosa significa? ve lo spiego proprio facile facile no follow significa che noi stiamo dicendo ai motori di ricerca di non seguire questo link e l'altro attributo significa apri in un'altra pagina che è l'equivalente che di fatto significa apri questo link all'interno di un'altra scheda del motore di ricerca quello è un tag che si mette per una questione di sicurezza per farvela semplice mentre il no follow vuol dire esattamente no non seguire cioè quello che dice significa cioè non devi seguire questo link quindi cosa significa? significa che a livello SEO e quindi di link non ha nessun valore per Google e vi spiego anche il perché ha una logica questa cosa perché voi direte vabbè ma se io scrivo un mega contenuto di valore in questo caso stavo linkando Google quindi comunque linko una fonte autorevole perché mai non dovrebbe portare valore al sito questo perché perché LinkedIn non è in grado ovviamente di monitorare e valutare la bontà dei link delle cose che vengono linkate all'esterno quindi non è il unico modo che ha in modo massivo per evitare lo spam ok perché voi immaginate se chiunque potesse fare questa cosa senza controllo e avesse un valore è chiaro che LinkedIn ha un peso quindi no assolutamente non vale quando avete il dubbio perché questo non vale solo per i social network per intenderci vale per i social network ma vale anche per alcuni siti o testate di grandi dimensioni perché come dicevo sono uscita su Repubblica Repubblica oppure sono uscita sul Corriere ok ma il link era follow o no follow perché il tema è sì è una menzione sì Google in qualche modo è sufficientemente intelligente da sapere che se il mio nome o la mia azienda è associata a un dato servizio e ha un qualche significato ma la menzione non ha lo stesso peso di un link follow quindi è chiaro che se noi potessimo avere tantissimi link follow da testate di grandi dimensioni o da LinkedIn è chiaro che il nostro sito si posizionerebbe molto più velocemente ma come vedete è proprio una ragione c'è proprio una ragione tecnica per cui questo non avviene punto e anche qua non c'è da fare disquisizioni di filosofia è un attributo che è sulla pagina voi pensate che Google vede l'HTML di pagina il robot vede quello e quindi al di là di ogni questione è proprio una questione tecnica per cui no il link che parte dall'articolo di LinkedIn non dà valore al sito che linka e quindi nemmeno se divento virale su LinkedIn questo mi può aiutare quindi no anche se divento virale no ovviamente no perché il tema è che sarò virale quindi sarò di valore ma c'è un tema no cioè il tema è che io posso essere LinkedIn top voice all'interno di LinkedIn e avere tutti i contenuti super visti ma su Google po 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 non avere nessuna rilevanza bene quindi non cercate la viralità fino a se stessa non serve a Google ma non serve nemmeno su LinkedIn in realtà a fine se stessa così mi permetto questo inciso c'è un'osservazione di Roberto che vuole tornare un attimo sulle immagini magari qualche indicazione un pochettino più tecnica qui sei sicuramente tu la la persona migliore per rispondere a questo interrogativo quindi conosce il vostro parere su come indicizzare proficamente le immagini profilo cover altre e se ciò è possibile è sufficiente caricare immagini che hanno nomi equivalenti a keywords allora la cosa interessante è che LinkedIn ci permette di inserire il testo alternativo e di scrivere all'interno del campo valorizzare il campo io quello che suggerisco è ovviamente nella foto di profilo che quindi ritrae se stessi cioè ognuno ha la propria foto profilo con nome e cognome io suggerisco proprio di mettere nome e cognome cioè in modo che sia inequivocabile posto che il tema è che anche lì Google dove trova l'immagine la trova all'interno di un contesto quindi non so come dire se anche io non scrivo Laura Venturini Google lo sa che quella foto fa riferimento al mio profilo perché lo trova all'interno della mia pagina di profilo quindi il tema è che Google è anche in grado di contestualizzare dove trova l'informazione quindi possibilmente sì io suggerisco sia la cover che la foto profilo di inserire anzi direttamente di inserire il file nominato in modo corretto cioè diciamo che è una best practice che io suggerisco a tutti a prescindere da dove si carica un contenuto è se io voglio caricare la mia foto che sia la mia foto profilo che sia la foto di un contenuto me la passo dal mio telefonino al mio computer la rinomino in modo corretto e la carico direttamente con il nome corretto e questo vale per tutto perché ad esempio ci sono CMS che una volta in cui noi abbiamo caricato sul sito la foto non ci permettono più di modificare il nome del file il tema è proprio inseriamo già il file quindi il file fotografia col nome corretto e poi ovviamente dove è possibile andiamo a valorizzare quel campo sì e fammi anche dire invece per le immagini che si mettono nei post che però non sono oggetto di indicizzazione da parte di Google lì esiste anche il testo alternativo che però è più per funzioni per questioni di accessibilità e quindi la lettura per esempio da un browser per non vedenti o cose simili insomma ipovedenti eccetera quindi per l'immagine invece del profilo e l'immagine di cover non esiste la funzione dell'alt text su LinkedIn se qualcuno se lo stesse domandando no 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 allora chiacchieriamo da tre quarti d'ora quindi abbiamo detto un sacco di cose qualcuno pare insomma che stia gradendo la nostra chiacchierata e quindi grazie per chi sta apprezzando se avete delle domande appunto come hanno fatto Roberta e Martina potete farlo io non ne ho altre ma c'è un tema che è stato che io ho citato e che qualcuno ha ripreso in particolare Maria Antonietta con gli articoli collaborativi e che magari in chiusura magari in chiusura accenno anche se non c'entra con la SEO se mi permetti Laura ma c'entra con un tema che a te in questo momento sta molto a cuore la scrittura con l'intelligenza artificiale ho scritto un post su LinkedIn di recente sugli articoli collaborativi lo trovate qua nei commenti se volete andare ad approfondire ma in sintesi la redazione di LinkedIn notizie ha incominciato a creare delle pagine su LinkedIn le trovate già sono linkate nel mio post dedicate delle competenze non so competenza SEO ok competenza personal branding dentro queste pagine si trovano attualmente sono circa una ventina in ogni pagina di articoli che vanno a rispondere a delle domande frequenti legate a quella competenza come si costruisce un buon personal brand ogni quanto ha senso aggiornare non so l'aspetto visual del personal brand scritti da chat GPT fondamentalmente proprio da questa intelligenza artificiale a cui e qui arriva secondo me l'idea proprio bella cioè qui LinkedIn ha avuto un'ottima idea di dare alle persone competenti su quel tema la possibilità di aggiungere un contributo un punto di vista che può essere anche in parte correttivo quindi in pratica anziché voler mascherare il fatto che sia scritto con un'intelligenza artificiale o prenderlo per forza per vero o aggiornato così Laura se vuoi puoi aggiungere qualcosa proprio prevede fin dall'inizio che sia necessario un contributo umano correttivo di ampliamento e di puntualizzazione e lo prevede e permette ai contributori frequenti e apprezzati di ottenere un piccolo badge che sarà sempre della serie top voice ma si chiamerà community top voice quindi più graditi dalla community è una cosa molto bella intelligente se posso aggiungerei guarda giusto spenderei due parole per quanto riguarda la questione dell'intelligenza artificiale e dei contenuti perché se ne parla se ne straparla tantissimo ormai da diversi mesi e lato SEO ovviamente apre un vaso di Pandora è finito che è il tema della qualità del contenuto ora io sto testando ovviamente anche io chat GPT sto facendo dei test per quanto riguarda sia la bontà dei contenuti che anche la qualità in ottica SEO le due cose che vorrei dire e che trovo molto rilevanti l'ho scritto anche in un post di LinkedIn che fondamentalmente chat GPT è un modello di linguaggio chiuso che non accede ai motori di ricerca quindi non verifica le fonti né le informazioni che stiamo scrivendo e soprattutto è fermo al 2021 quindi è comunque un modello chiuso e limitato a un certo periodo di tempo è molto intelligente siamo d'accordo il tema è come che tipo di informazioni gli diamo in pasto qui entra con orgoglio la mia ritorno la mia come dire la mia laurea in filologia nel senso che tutti i letterati sanno che non sappiamo tutto ma sappiamo bene dove cercare come chiedere le cose ecco e questo è assai vero con l'intelligenza artificiale perché il tema è chiediamogli le cose intelligenti in modo giusto ricordiamoci che no non hanno non ha una competenza reale sul trend sul momento attuale quindi vi faccio un esempio molto banale quando andiamo a chiedere di scrivere un testo ottimizzato per determinate keyword anche in base ai trend del settore sicuramente lui farà riferimento a un cluster molto vecchio perché su google è vecchio una cosa dopo qualche dopo qualche ora no però tendenzialmente sui social dopo qualche minuto su google no magari dopo qualche anno però a volte i cluster semantici hanno dei momenti diciamo di variazioni importanti vi faccio proprio un esempio super pratico noi abbiamo lavoriamo per un grosso brand di mobili per ufficio di design e prima della pandemia ovviamente i picchi di ricerche erano mostruosi nel senso che le persone cercavano per capirci la scriveria direzionale di design fatta dal designer X dopo la pandemia le ricerche come potete immaginare stanno andando tutte verso l'home working cioè verso proprio una tipologia di arredamento da ufficio che non è più l'ufficio classico ma l'ufficio domestico e come questi di esempi ve ne potrei fare ottordicimila perché il tema qual è e che chiaramente l'intelligenza artificiale è limitata la cosa che però invece può essere utile lato SEO molto e anche lato scrittura dei contenuti è che posso chiedergli di formattarmi in modo corretto il testo posso chiedergli di mettere gli H2 per capirci sottotitoli in ottica SEO dandogli io le keyword che secondo me sono rilevanti posso chiedergli di costruire dei contenuti che siano pensati in ottica SEO ma anche lì considerate il come viene costruito cioè a volte c'è una ripetizione della keyword che come ci siamo ti piace a LinkedIn a Google un po' meno anzi a Google non piace e quindi secondo me usatelo responsabilmente nel senso che non è un sostituto cioè ad oggi non lo è non vi dico che non lo sarà mai in assoluto probabilmente chi lo sa soprattutto se nel momento in cui potremmo utilizzare lo strumento di Google probabilmente le cose saranno molto diverse detto questo per ora insomma cerchiamo di farne un uso intelligente ottimo punto importante grazie di averlo precisato e ritornando quindi sugli articoli collaborativi molto bello che LinkedIn preveda la mitigazione di eventuali errori o mancanze di aggiornamenti proprio col contributo della community quindi permettendo alle persone in qualche modo di costruire un proprio personal branding in questo modo a me è venuto in mente un po' i vecchi Yahoo Answer o Quora dove comunque a partire da una domanda le persone poi si scatenano nel bene e nel male speriamo più nel bene su LinkedIn però in questo caso la base di partenza è una base intelligenza artificiale quindi molto attuale ma rispettoso sempre della community che deve avere la possibilità di valorizzarsi vedremo come funzioneranno sono solo in inglese al momento questi articoli collaborativi purtroppo ma tant'è intanto ho provato in diretta a chiedere a ChatGPT come vengono incizzati gli articoli Pulse di LinkedIn su Google e meno male che ho invitato te e non ChatGPT a questa live Laura perché la risposta non sarebbe ugualmente buona no vabbè è un'intelligenza ma io lo dico è molto interessante per quello vi dico facciamo attenzione a che cosa gli chiediamo nel senso perché non ha la risposta a tutto giustamente impara anche dalle domande che gli facciamo però se capiamo come usarlo può essere io lo dico assolutamente uno strumento di lavoro molto molto interessante che aiuta a eliminare diciamo tutte quelle piccole cose vi faccio un esempio a livello di keyword avete una valangata di keyword chiedete a ChatGP di clusterizzarvele tra informali commerciali eccetera può farlo può clusterizzarvi può farvi delle tabelle fichissime cosa che normalmente a un essere umano ci vuole almeno mezz'ora ChatGP lo fa con 10 secondi cioè veramente l'invio fate il click invio e vi ha restituito il risultato quindi sicuramente per i lavori a basso valore aggiunto è molto interessante per molte cose sì allora ultima domanda prendiamo di Maurizio c'è qualche la leggo in diretta c'è qualche correlazione di vantaggio tra la quantità di contenuti pubblicati su LinkedIn e i risultati sulla SERP di Google oserei non lo so forse per la legge dei grandi numeri c'è più probabilità no scherzo ovviamente no non c'è correlazione non c'è assolutamente correlazione tra la quantità e la comparsa nella SERP di Google io anzi vi invito a ragionare sempre sulla qualità di quello che fate cioè meglio un articolo ma di altissima qualità molto ben ottimizzato rispetto a tanti contenuti tra l'altro vi invito anche a riflettere su quale sia il contenitore giusto per in base all'obiettivo cioè voi dovete partire da chi voglio essere letto qual è l'obiettivo del mio contenuto e allora poi si ragiona lo metto sul mio blog lo metto sugli articoli di LinkedIn eccetera eccetera cioè il tema è vale per qualsiasi diciamo attività di marketing digitale non partite da qual è il vostro target e non sbagliate mai esatto fammi dire che forse se c'è una possibile conseguenza nell'apparizione nel miglioramento dell'apparizione della SERP è perché se pubblico ok anche tanto ma soprattutto contenuti di qualità per il target giusto la mia popolarità come professionista aumenta e magari aumentano per esempio i link a un mio sito a una mia property link in ingresso che non sono magari no follow e quindi mi rendono più popolare anche ai fini del posizionamento non dico del profilo LinkedIn ma magari del mio sito grazie al lavoro che ho fatto su LinkedIn perché ho condiviso la mia conoscenza e sono stato apprezzato posto che investire sul proprio e sulla propria presenza è sempre una cosa fatta bene non c'è una correlazione diretta quindi probabilmente diciamo che tutto crea infatti si parla sempre di marketing mix perché il senso è quello cioè non c'è un unico canale ci sono n canali che ci aiutano a costruire quindi ragioniamo comunque sempre in ottica di qualità e non di quantità ecco Laura grazie mille e tienici aggiornato sui risvolti dei vostri esperimenti chat GPT SEO assolutamente volentieri grazie a tutti